Viaggio di Maro si difende dopo Uomini e Donne, non devo chiedere scusa L'ex cavaliere rompe il silenzio dopo l'addio al programma, mi dispiace Viaggio di Maro un ex protagonista del Trono Over, si è lasciato andare a uno sfogo ai microfoni di Uomini e Donne Magazine, dopo essere stato cacciato dalla padrona di casa Di recente infatti l'uomo ha dovuto abbandonare la trasmissione, dopo che Maria De Filippi è stata stufa di vederlo di continuo in delle situazioni non belle L'escavatorista partenopeo che è convinto che le donne che ha conosciuto hanno avuto pregiudizi nei suoi confronti a causa di Tina Cipollari, non ha nascosto la sua amarezza per la sua uscita di scena Mi dispiace per quello che è successo, non sapevo nulla del passato di Carla L'opinionista attaccata dall'escavatorista, mi ha complicato l'interazione con le donne Dopo l'assenza a Uomini e Donne, il cavaliere Viaggio di Maro era tornato La sua esperienza non ha avuto lunga durata, visto che ha lasciato lo studio dopo lo scontro con Carla, e essere stato gelato da Maria De Filippi Il partenopeo in un'intervista rilasciata alla rivista della trasmissione, ha rotto il silenzio sulla dama, dicendo di comprendere la sua forte reazione Inoltre ha spiegato il suo passo indietro, per aver sospettato che abbia un altro fuori, non mi sono più fidato L'ex protagonista del Trono Over si è difeso da chi crede che voglia solo una cosa dalle donne, dopo aver ammesso di partire a mille Non lo faccio perché voglio portarmi a letto le dame o usarle, non pretendo nulla in cambio Non poteva non parlare di Tina, mi ha complicato molto l'interazione con le donne Mi è capitato che mi abbiano confessato di essere prevenute per le parole che dice, ovvero che già si sa che la storia finirà male Viaggio di Maro deluso da una dama, ha tirato fuori una rabbia incomprensibile L'ex cavaliere soprattutto si è difeso, dicendosi convinto di non dover chiedere scusa a nessuna donna con cui è uscito in questi anni nel programma No, perché ho sempre dato tutto quello che potevo. Però credo che qualcuna dovrebbe chiedere scusa a me Con queste sue ultime parole si è riferito a Silvia, precisando che non è vero che non ha dato valore a quello che si sono detti e al loro dolore comune di cui hanno tanto parlato, e non nascondendo la sua delusione Ha tirato fuori una rabbia incomprensibile nei miei confronti. Forse il suo vero interesse fin dall'inizio non ero io Grazie a tutti